Non riesce ad innestare definitivamente il turbo, la supera Gazzanese di Chierico che nel match valevole per il diciassettesimo turno del campionato di prima categoria non va oltre al pareggio interno con una coriacea via Rolese. I parmensi riescono addirittura a mettere il bavaglio al miglior attacco del torneo, con bomber Burgazzoli che rimane a bocca asciutta per la prima volta in stagione. Il macedone Caracole va in avvio, prova la carezza sull'assistenza sfornata dal duo Loprieno-Jakimovski. Calcio d'angolo e ancora Burgazzoli tenta la zampata ma all'undici di San Nicolò manca il bersaglio grosso. Anche da fermo le parabole al veleno di Fulcini non hanno miglior fortuna, la squadra di Chierico però quando riesce a distendersi in velocità fa paura. La percussione centrale di Burgazzoli alla mezz'ora sembra destinata all'epilogo al quale ha abituato il suo pubblico da inizio stagione, Bardiani però sventa in qualche modo. Sono invece brividi veri quelli che corrono lungo la schiena del pubblico di Fede Granata in chiusura di frazione, quando Donati non inquadra lo specchio. L'ultima emozione la regala ancora una volta l'asse Iakimovski-Burgazzoli, con quest'ultimo che incrocia troppo il destro. Nel corso della ripresa la viarolese rischia grosso sulla super occasione che capita sulla testa di Loprieno. Burgazzoli disegna un assist al bacio ma l'ex bandiera del San Colombano tradisce la fama di bomber spietato. Lucini sporca i guanti sulla conclusione di Donati ma al 72esimo è il direttore di gara dopo aver espulso per proteste Orlandini a fornire ai padroni di casa l'occasione da non sciupare. Fulcini però dagli 11 metri spara nell'uretta il pallone della vittoria. È il terzo errore dal dischetto per la gazzanese macchina da golla che si inceppa sul più bello. Grazie a tutti.